Di Martino contro la tua squadra, un'altra vittoria 3-0, 3 punti, la vera sorpresa del campionato siete voi? Sì, oggi è stata veramente una bella partita, siamo la sorpresa, stiamo giocando bene, come ho detto la partita precedente abbiamo un livello di gioco molto alto, limitiamo gli errori, abbiamo una linea di ricezione molto forte, quindi ci permette Fernando di distribuire il gioco insomma come vuole lui, oggi era importante, non era a base, abbiamo una squadra come Taranto che so benissimo che cerca punti, cerca punti per la salvezza, però ecco è un momento positivo per noi. Senti, questa forza della seconda linea permette a Caciopa veramente di variare e questo fa la fortuna anche di voi centrali, vi stai divertendo quest'anno? Sì, assolutamente, c'è un feeling pazzesco tra noi centrali ma un po' tutti quanti, è un brasiliano, porta positività nel gioco e in campo, quindi insomma oggi si è visto, ha fatto una gran partita, penso che ha preso anche il miglior giocatore della partita, quindi siamo contenti, continuiamo così perché ci sono aspetti da migliorare come in tutte le cose, però oggi ho fatto una gran partita. Ti aspettavi una Taranto così remissiva, doveva venire qui per fare la partita e invece non è mai scesa in campo? No, non me l'aspettavo, non me l'aspettavo sinceramente, però ecco sono abituato a guardare nel campo mio e oggi abbiamo fatto una gran partita, siamo partiti veramente aggressivi e in battuta, ecco il nostro fondamentale, anche un fondamentale molto importante per noi perché mettiamo in difficoltà la linea di gestione come abbiamo già fatto oggi nel tutto l'anno. Grazie mille. Grazie mille.